Musica Anche Sassari si mobilita per lo YouSoli, gigantesco girottondo ieri in piazza d'Italia del Partito Democratico che ha coinvolto grandi e bambini di tutti i colori. Nuova app per l'ATP di Sassari. Dal 1 novembre sarà possibile conoscere direttamente sul proprio smartphone i tempi di arrivo alla fermata degli autobus. Il consigliere di Forza Italia Marco Tedde critica il calo di traffico nello scalo di Alghero e chiede al presidente Pigliar un tavolo sui trasporti con le opposizioni. Musica Buonasera e benvenuti al TG di Canale 12. Iniziamo il nostro TG con il Flash Mob di ieri sera in piazza d'Italia Sassari, un'iniziativa dei giovani del Partito Democratico per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla legge YouSoli. Un gigantesco girottondo di bambini ha coinvolto e trascinato anche tutti i presenti, compreso il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau. Il servizio è di Valeria Secchi. Flash Mob a Sassari in favore dello YouSoli. Si è tenuta ieri in piazza d'Italia la manifestazione organizzata dai giovani democratici con l'obiettivo di sostenere l'approvazione della proposta di legge sullo YouSoli. Un'iniziativa che ha raccolto l'adesione di un gran numero di giovani ma anche del presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau che si è dichiarato a favore della nuova legge. A sostegno della normativa anche i bambini che hanno coinvolto in un gran girottondo tutti i presenti sulle note di bonghi e tamburi. Sono stati proprio i più piccoli i protagonisti della manifestazione, distanti da qualsiasi pregiudizio che probabilmente hanno tra loro compagni di scuola molti amici di colori e di provenienze diverse. Il Flash Mob, organizzato per sensibilizzare l'opinione pubblica anche in città, si alla fine è trasformato in un vero e proprio momento di gioia, festa e condivisione, al quale hanno partecipato anche i diretti interessati alla nuova legge. Lo YouSoli prevede il diritto alla cittadinanza per i bambini nati sul territorio italiano da un genitore legalmente residente nel nostro paese da almeno 5 anni e per i minori stranieri, nati e arrivati in Italia entro i 12 anni, che abbiano frequentato le scuole per 5 anni e superato almeno un ciclo scolastico. Parliamo ora di trasporti. Nuove critiche all'aeroporto di Alghero da parte del consigliere regionale di Forza Italia, Marco Ted, chiede al presidente dell'Aggiunta regionale, Pigliar, un tavolo con le minoranze per un confronto costruttivo. Il servizio è di Sandra Sanna. Aeroporto di Alghero ancora col segno meno, nonostante gli importanti flussi turistici generati principalmente dalle varie crisi del Mediterraneo e della Turchia. E ancora una volta il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Ted, è a commentare i dati di Asse Aeroporti. Sono 1.095.000 i passeggeri dei primi nove mesi dell'anno con una leggera perdita rispetto allo stesso periodo del 2016, ma con un meno 21% rispetto al 2015, anno precedente l'abbandono di Ryanair. Prosegue la deriva dell'aeroporto, commenta l'ex sindaco di Alghero, che ha provocato licenziamenti e la crisi di un'intera area geografica. Ma ciò che più preoccupa, sottolinea il consigliere regionale di Forza Italia, è il quadro fallimentare e complessivo delle politiche regionali dei trasporti, a partire dal blocco della continuità territoriale sulle ruote minori per arrivare al mancato varo del piano di incentivi, fino alla bocciatura di Bruxelles, debando sulla continuità territoriale d'Alghero e Olbia verso Roma e Milano, con probabile apertura di una procedura di infrazione per aiuti di Stato illegittimi e degli insostenibili ritardi del bando per la destagionalizzazione del turismo in Sardegna. Sollecitiamo ancora una volta il presidente Piglia, Rucchiudo e Tedde, a prendere atto del fallimento delle politiche trasporti e aprire un tavolo al quale possano partecipare anche le opposizioni al fine di disegnare nuovi scenari per i collegamenti da e per l'isola. E continuiamo parlando di trasporti ma cittadini. Sarativa dal prossimo 1 novembre, la nuova app dell'azienda Trasporti di Sasseri sarà possibile conoscere direttamente dal proprio smartphone, i tempi di arrivo alla fermata degli autobus e calcolare linee e coincidenze. Il servizio è di Luca Fodai. L'azienda Trasporti pubblici di Sasseri avvia un nuovo servizio. Dopo la rivisitazione delle linee e il restyling del sito web aziendale a partire dallo scorso 1 maggio, è adesso il momento del lancio di un importante servizio digitale, l'app ATP Sasseri, che sarà attivata dal prossimo 1 novembre. Realizzata da Abinsula, l'app permetterà di conoscere corse e tempi di arrivo degli autobus, non più soltanto davanti ad una pallina elettronica. Sul proprio smartphone sarà infatti possibile visualizzare orari, percorsi, linee e tempi di attesa effettivi. Grazie alla nuova app ATP Sasseri, i dati che oggi noi leggiamo attraverso quei monitor delle palline elettroniche, quelle che in città conosciamo come palline intelligenti, le potremo andare a leggere direttamente attraverso il nostro smartphone. Come ATP siamo certi che con questo nuovo sistema saremo in grado di offrire alla nostra clientela la possibilità di limitare ulteriormente i tempi di attesa alle fermate. E non solo, la particolarità di questa app è quella di poter disegnare facilmente, quindi conoscere immediatamente il percorso, una volta che io conosco il mio punto di partenza e la mia destinazione. Perché se io per esempio mi trovo nella zona di Sassare 2, abbastanza periferica della città, devo andare verso l'ospedale Conti, io immediatamente attraverso l'app posso conoscere quali autobus prendere, quali sono le coincidenze e qual è il tempo complessivo per il mio viaggio. A breve sarà inoltre introdotta un'altra e attesa novità. L'app ATP Sasseri permetterà anche di acquistare digitalmente il biglietto dell'autobus, uno strumento utilissimo per il cliente che non dispone di un abbonamento o di un ticket cartaceo. E ora una notizia di cronaca. Un violento scontro a Santa Maria di Pisa tra giovani locali ed extracomunitari. Vediamo le immagini. Maxi Rissa tra giovani sassaresi ed extracomunitari. Una settantina di persone in tutto nel quartiere di Santa Maria di Pisa in Piazza De Tori. Lo scontro ha avuto origine ieri sera nelle vicinanze della Casa di Accoglienza per Migranti del PIME in Via Solari. Poco prima delle 13 un ragazzo africano era stato picchiato. Quando in serata è ritornato in Piazza De Tori accompagnato da un amico per acquistare delle sigarette è stato nuovamente aggredito. Dal centro di accoglienza sono però arrivati rinforzi e la piazza si è trasformata in un campo di battaglia dove decine di ragazzi armati di bastoni, pietre e bottiglie si sono fronteggiati. Solo con l'arrivo delle volanti della polizia e delle patuglie dei carabinieri è stata riportata la calma. Due ragazzi stranieri e uno sassarese sono rimasti leggermente feriti. E proseguiamo con la cronaca. Sequestrato ad Olbia un cantiere nautico per la presenza di rifiuti pericolosi per l'ambiente. L'operazione è stata condotta dalla Guardia Costiera. Il servizio di Walter Fanni. La Guardia Costiera di Olbia ha posto sotto sequestro un'area di circa 3.000 metri quadri all'interno di un cantiere nautico in località Cala Saccaia. Sulla superficie sono stati infatti rinvenuti rifiuti potenzialmente dannosi per l'inquinamento ambientale depositati disordinatamente all'aperto e altri potenzialmente pericolosi come razzi marittimi di segnalazione scaduti adiacenti a scarti altamente infiammabili quali oli esausti e residui di vernici. Per la messa in sicurezza dell'area si è reso necessario l'intervento preventivo dei vigili del fuoco di Olbia. Il titolare del cantiere è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria competente per scarico incontrollato, miscelazione di rifiuti pericolosi e in osservanza delle norme sullo stoccaggio dei rifiuti come previsto dal Codice dell'Ambiente del 2006. L'attività ispettiva, coordinata dal direttore marittimo capitano di Vascello Maurizio Trogu verrà estesa a tutti i cantieri nautici presenti sul demanio marittimo sotto la giurisdizione della Capitaneria di Porto di Olbia. E parliamo ora di turismo e in particolare di itinerari religiosi. Pronto un pacchetto che comprende tre basiliche di grande importanza la chiesa di Sacargia, Nostra Signora del Regno e la Basilica di Sorres. Vediamo le immagini. Il turismo religioso muove nel mondo 300 milioni di persone e la Sardegna potrebbe essere inserita in questo circuito. L'attrazione di nuovi flussi turistici è il principale obiettivo dell'Associazione Amici della Basilica di Sacargia che con la collaborazione dei sindaci di Codrongiano, Sboruta e Ardara hanno ideato un percorso che tocca tre basiliche di grande importanza architettonica e storica. La chiesa di Sacargia, Nostra Signora del Regno e la Basilica di Sorres. Fondamentale il contributo della Fondazione Sardegna che sta sponsorizzando l'iniziativa. Oltre a valorizzare il patrimonio storico e artistico delle tre basiliche si è pensato di creare una sinergia tra i tre luoghi sacri. Con la creazione in ogni piazzale, antistante le chiese, di parcheggi, servizi igienici, chioschi di souvenir, centri di storo e nuovi spazi ricettivi, anche diffusi, tutti con gli stessi prezzi e la stessa filosofia di accoglienza. A questo proposito è stato anche organizzato un corso guida al turismo culturale e religioso al quale hanno partecipato 15 ragazzi. Presidente dell'associazione Amici della Basilica di Sacargia, Ivano Spallanzani, già presidente della Banca di Sassari, che visitando la Basilica di Sacargia ha intuito le potenzialità del luogo sacro e ne ha parlato con alcuni amici e conoscenti e così è nato il progetto. Un percorso di 33 chilometri, fruibile in una sola giornata, riassunto in una brochure realizzata dalla casa editrice Delfino con tanto di informazioni sulle basiliche, fotografie e mappa per localizzare i luoghi e per il quale è già stato prontato un pacchetto da veicolare nei vari tour operator, ma soprattutto tra i numerosi circoli di Sardi, in Italia e all'estero, che hanno già mostrato particolare interesse per questa iniziativa. E siamo alla pagina della cultura. Si è chiusa ieri la rassegna organizzata da teatro e musica Voci di Donna. Tutto esaurito al teatro civico per Franca Masu. Vediamo le immagini. Ultima rassegna per lo spettacolo Voci di Donna. Si chiude oggi alla grande con Franca Masu. Sì, è appunto una rassegna con quattro appuntamenti in cui la vocalità, l'artisticità femminile è in primo piano. Oggi è Franca Masu, il teatro è esaurito, come anche gli altri appuntamenti e direi che per Franca Masu è quasi l'ordinarietà quello del pienone. Il teatro civico si presta anche per la sua, diciamo, dimensione giusta e anche dal punto di vista dell'acustica. Il teatro civico dà sicuramente sempre dei ottimi risultati. Qual era il film rouge di questa edizione? Ma un film rouge, diciamo, non è facile delinearlo. Però direi che dal primo appuntamento con la danza di uno spettacolo su Frida Calò poi uno spettacolo molto interessante delle Voci del Salento che hanno dato, diciamo, l'immagine di quella che è la musicalità etnica della Puglia. La musica un pochino è il filo conduttore perché noi siamo teatro e musica e inevitabilmente ci accompagniamo con questi due termini per le nostre attività. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco! Bentornati in studio. Apriamo subito la pagina sportiva a cura di Icori Bichesu. Una passerella extra lusso per il pilota Omar Magliona che chiude sui tornanti della Scala Piccada un 2017 fantastico che lo ha incoronato campione d'Italia per la settima volta. Domani e domenica ad Alghero vivrà la classica più amata del nord Sardegna. Omar Magliona affronta nel weekend del 29 ottobre la 56esima Alghero Scala Piccada, gara di casa e ultimo impegno agonistico del suo 2017 sportivo. Il portacolori della CST Sport ha l'occasione di onorare il suo settimo titolo di campione italiano, il primo nel gruppo dei prototipi E2 SC, conquistato giusto il mese scorso nel campionato italiano e velocità montagna sulla norma M20 FC Zaytac. Il pilota sardo aveva esordito sulla Sportscar Biposto Francese nell'ottobre 2015, vincendo con tanto il record del percorso proprio quell'edizione dell'Alghero Scala Piccada e ora vi ritorno affrontando però un tracciato allungato di oltre un chilometro. Già vinta da Papa Uccio negli anni 80, unico driver sardo a riuscirvi tre volte, e dallo stesso Omar nel 2007 e appunto due anni fa la cronoscalata a Sassarese del 2017 presenta un percorso di 6.285 metri, da ripetere due volte. Oggi l'evento entra nel vivo con le verifiche sportive e tecniche e da domani si disputeranno le due salite di prove ufficiali con start alle 9.30. Domenica, infine, via a gara 1, sempre alle 9.30 e gara 2 a seguire. Magliona e Chiara, siamo pronti a concludere nel 2017 i grandi battagli e proprio alla gara che mi vede buttare sul prototipo che mi ha consentito poi di gareggiare sempre ai vertici nazionali. L'affronteremo senza assilli, soltanto con il desiderio di far bene e accumulare un'ulteriore esperienza al volante del prototipo. Poi da lunedì ci concentreremo sui programmi 2018 alla ricerca e all'opzione più ideale per continuare a lottare ad alti livelli. E passiamo al calcio. La Torres Femminile, domenica alle ore 14.30, affronterà negli impianti del Cus Sassari la terza gara del campionato di Serie B. Avversari di turno, le oristanesi dell'Atletico. Ritorna il campionato di Serie B nazionale con protagonista del rosso-blu di Torre Arca che domenica alle 14.30 incontreranno l'Atletico Oristano. La presentazione e la gara è affidata al presidente Andrea Budroni. Siamo la Torres, siamo una squadra molto blasonata ma col blasone non si scende in campo. Noi giocheremo con il nostro spirito di appartenenza alla maglia e cercheremo di portare a casa i tre punti. E con Torre Arca che sicuramente è il valore aggiunto di questa squadra. Lo ripeto tutti i giorni e non stancherò mai di dirlo. Il nostro bomber, la nostra punta di diamante è il mister, il rettore Arca. Le ragazze dal canto loro si stanno impegnando molto e siamo molto soddisfatti degli allenamenti, delle partite fin qui disputate. Il passaggio del turno della Coppa Italia nel Girono e Sardo andremo ad affrontare l'Inter a Milano. La prima di campionato noi abbiamo giocato contro la Riozzese a Milano dove la nostra squadra ha un'età media tra i 19 e i 20 anni in campo. La Riozzese aveva un'età media tra i 25 e i 26 anni. Quindi siamo molto contenti perché stiamo puntando sulla giovane età e il mix di esperienza l'abbiamo in panchina con il mister. È arrivata in redazione una notizia dell'ultima ora. Un vasto incendio nello stagno di Plattamona. Le fiamme alimentate da un forte vento hanno distrutto centinaia di etari di cannetto. Sul posto, per fronteggiare il vasto fronte infuocato, i mezzi dei vigili del fuoco, della forestale e gli uomini della polizia locale di Sassari. Un'area protetta, un sito di importanza comunitaria in cui risiedono molte specie di flore e fauna protetta. Tra queste il pollo sultano, una razza in via di estinzione. Un danno ambientale per una zona umida difficilmente quantificabile. Mentre andiamo in onda sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. Era questa l'ultima notizia del nostro giornale. Vi ricordo che potete seguirci su www.wifitv.tv attraverso i vostri apparecchi elettronici e sulla nostra pagina internet www.canaledodici.it e sui social Facebook, Instagram e YouTube. Il notiziario ritornerà domani con i due rulli informativi alle ore 7 e alle ore 14, mentre per il Tg condotto in studio l'appuntamento è per lunedì alle ore 19.45. Nel salutarvi vi lascio le notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa ADN Kronos. Grazie per averci seguito, vi auguro una piacevole serata. Arrivederci. Grazie per averci seguito, vi auguro una nuova notizia di stampa ADN Kronos.